TopoTip, non voglio fare il bagnetto. Mi sono rotolato nelle alghe e adesso sono un mostro pusolente. Corri che ti prendo! Penso che questo gioco durerà tantissimo. L'ultima corsa di chiocciole che ho visto è durata un anno. C'è tutto il tempo per raccontare una storia, quella di Tip che non voleva fare il bagnetto. TopoTip sta giocando con Ophie e Ciuffie in riva al fiume. È una giornata calda ed è bello giocare ai cercatori di tesori dove l'acqua è bassa. Ciuffie, vieni anche tu! dice Tip all'amico. Ma Ciuffie si tiene in disparte perché ha un po' paura. Cercando nell'acqua, Tip trova delle alghe e se le mette in testa. Ma cosa fai? gli chiede Ophie. Mi trasformo in un mostro d'alghe e adesso ti prendo e ti trasformi anche tu, dice Tip inseguendola. Attenti a non farvi male, grida Ciuffie agli amici. Ti ho preso, dice Tip toccando Ciuffie. Ophie e Tip ridono, ma Ciuffie avicia il naso. La sentite anche voi questa puzza? Ma certo, risponde Tip pieno d'orgoglio. È la terribile puzza del terribilissimo mostro d'alghe. Tip, vieni, è ora di tornare a casa. Lo chiama il papà. Ma quando Tip raggiunge i genitori, anche loro si accorgono della puzza di alghe e storcono il naso. Qui ci vuole subito un bel bagnetto, esclama la mamma. No e no, no e no, dice deciso Tip. Non importa se la mamma insiste. Lui il bagnetto proprio non lo vuole fare. Lo sanno tutti che i mostri d'alghe sono puzzolenti e devono rimanere così. Io non l'ho mai visto, un mostro profumato, conclude il topino. Poi Tip vede Jody e Cogniglietta nel giardino di fronte a casa. Così chiede alla mamma se può fermarsi a giocare un pochino con loro. La mamma consente, ma il papà lo avverte. Ricordati che i mostri puzzolenti non piacciono a tutti. Tip corre incontro agli amici che, sentendo la puzza, subito scappano via. All'inizio è un gioco divertente, ma poi Tip si accorge che Jody e Cogniglietta non vogliono proprio stargli accanto. Ho capito, non volete giocare con me, dice, e triste se ne torna a casa. Che cosa è successo? Vi chiede la mamma. Tip le racconta che Jody e Cogniglietta non vogliono giocare con lui. Per fortuna ho Teddy, aggiunge, mentre stringe il suo orsacchiotto, che però puzza tremendamente. Teddy che puzza! Puuu! Esclama Tip. Teddy avrebbe bisogno di un bel bagnetto, ma forse preferisce rimanere un mostro d'alghe, dice la mamma. Tip scuote la testa. No, Teddy, devi proprio lavarti e, se hai paura, farò il bagnetto con te. Mentre asciuga il suo topino, che ora è felice e profumato, la mamma sorride. Ecco Jody e Cogniglietta. Sono venuti a dire a Tip che li vogliono bene come sempre, ma che la puzza del mostro d'alghe era terribile, dice Tip ridendo. Ora non si devono più preoccupare. Un buonissimo sapone alla fragola ha sconfitto il mostro per sempre. Grazie a tutti.